Noi veniamo dalla regione Campania, provincia di Caserta, ci troviamo molto bene. Fantastici. Non ci sono parole, è tutto bello. L'accoglienza è stata fantastica. Il calore che abbiamo lasciato noi. Mi chiamo Raffaella, vengo da Brindisi. La giornata ci ha dato la possibilità perché c'è il sole, quindi ci ha fatto un po' dimenticare perché siamo qui per fare, diciamo, per salute. Non sembra diversa dalla nostra città. Alla salute. Noi in Italia, da noi, al paese nostro, ci saranno 30-40 albanesi che lavorano tutti e sono tutti bravi ragazzi. C'è stato un piccolo aneddoto in questi giorni. L'ho chiamato, gli ho detto che ero in Albania e lui subito ha contattato i suoi parenti per poter contattare me se mi serve qualcosa. Quindi veramente delle persone fantastiche, sia quelli che stanno là che quelli che ho trovato qua.